Allora, siamo qui con Mr. Bordin, oggi direi una grande vittoria anche per, come stavano dicendo, la reazione che ha avuto la squadra dopo il gol del pari, una reazione che non avrebbero avuto tutti. Comunque voi oggi, con questa vittoria, riaprite il campionato, sicuramente. Sì, effettivamente, quello che ho apprezzato è proprio il dopo rigore, perché quando prendo un rigore così che magari tu mi dici che c'era, io dalla panchina l'ho visto sinceramente perché non è che la luce sia eccezionale qui. Quindi avevo paura appunto di una caduta mentale più che altro, non tanto fisica ma mentale, che potesse favorire il loro 2-1. Invece la reazione è ottima, i miei ragazzi veramente tutti eccezionali, anche chi è entrato dopo ha dato veramente tutto perché a questa età non è facile entrare e dare tutto. Sì, grande prova collettiva. Collettiva, di un gruppo, veramente. Se il gruppo nasce devo dire che nell'ultimo mese anche a livello di ordine in campo lo sto apprezzando veramente. Speriamo che, se mai cosi che più andiamo avanti meglio è, speriamo e meglio facciamo. Speriamo che andiamo avanti così.